Io non ho impreso l'applauso, salto, come sempre io, come sempre un altro applauso Anche voi ha detto, domani ci sono tutti insieme a YouTube e nelle nostre pagine tra i suoi Allora, troverete i fratelli video che stiamo facendo questa sera Well, to Facebook, digitando, salto, guadagnato, venite, coccinella, eh Ci sono i suoi milagro e troverete il colpino, il figliettino che viste, eh Il mio coccinella lo vedrete subito perché trovate tanto coccinella E poi io con uno, con un amico, amica, la sorella di Salina, anche voi lo possono vedere tutti, eh Grazie